E allora, io chiamo Roberto Ippolito, qui sul palco, che diciamo ci darà un po' la cornice, no? Lo scenario generale. Vuoi metterti lì al podio? Forse è meglio. Ecco, aspetta che facciamo una cosa, vediamo se togliamo anche questo sgabello. Mettiamo qua. Eccoci qua. Allora, vabbè, il libro insomma forse l'avete visto, io adesso fisicamente non ce l'ho qui, abusivi, no? Per chiare lettere, mi pare. E lì, insomma, adesso ce lo dirà lui, visto che nell'autore si racconta, insomma, quest'Italia abusiva e gli abusivi non solo sono degli evasori, ma sono anche, rappresentano bene quella fetta di concorrenza sleale per cui tutto diventa più difficile. Ci sono storie di tutti i tipi, no? Dal nord al sud dell'Italia, documentate che Roberto ha raccontato e credo che sia la migliore occasione questo per sentire da lui che cos'è la parola, che cos'è l'abusivismo. Poi ne parleremo ovviamente declinandolo anche rispetto ai problemi degli agenti immobiliari. Prego, Roberto. Beh, grazie, buonasera. Devo dire, è la prima volta in assoluto un'assemblea di metà mandata. Funziona? Parlare di un libro. E al di là della soddisfazione personale, indubbia, credo sia molto importante perché parlare avendo ciò che racconta un libro significa riuscire un po' ad approfondire un argomento. Ripeto, al di là dell'orgoglio personale, è una questione molto importante perché oggi voi avete toccato molti punti di che cosa significa l'abusivismo. Tenterò con poche parole, esempio alla mano, di dirlo toccando poi quello che è il vostro mondo. Perché giustamente Andrea Pancani ha ricordato alcuni degli effetti, l'evasione fiscale e la distorsione della concorrenza, ma gli effetti sono oggettivamente tanti. Partiamo con un episodio che può sembrare leggero. Siamo a Gaeta, spiaggia magnifica, scogliera di Serapo. Chi la conosce sa come è bella. Un bel giorno spunta la Madonna nel vero senso della parola. La statua della Madonna è stata installata sulla scogliera di Serapo. installata però non è la parola esatta, dovremmo dire cementata. Perché un bel giorno qualcuno ha deciso di cementare quella statua della Madonna, senza alcuna autorizzazione. Quindi anche la Madonna abusiva. Perché l'episodio è rilevante? Ovviamente non rientra nell'abusivismo edilizio del cemento. Ne diremo alcune cose. È rilevante perché un paese che non rispetta neanche la Madonna con l'abusivismo è, come dire, il regno della sfrontatezza. Può toccare qualunque cosa. Ora vi evito di dire, visto che siete già sufficientemente afflitti, che il primo capitolo del libro si intitola Perfino nell'aldilà e racconto anche di morti abusivi. Una cosa, fidatevi sulla parola, è tutto assolutamente vero. Sono indicate tutte le operazioni di polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, tutto con estremo dettaglio a scanso di equivoci. E riguarda, come diceva Andrea Pancani, tutta l'Italia. Andiamocene un momento a Tertenia. Siamo sulla costa orientale della Sardegna. Immaginate la scena. Di qua delle ruspe, di qua schierati. Mamma, papà e bambini in braccio. I bambini usati come scudo umano per impedire l'avanzata delle ruspe. Ruspe cattivissime, ovviamente. Perché cattivissime? Perché dovevano procedere alle demolizioni decise in via definitiva, che non si poteva discutere. Ora non vi racconto il caso nel dettaglio, per non rubarvi troppo tempo, ma perché quelle ruspe dovevano fare il loro lavoro? Perché alcune case erano state costruite addirittura sulla spiaggia, a meno di 100 metri dalla riva. Il sindaco si è arrabbiato, dice ma perché si vengono a fare le demolizioni qui quando non si fanno in tutta Italia? Un po' poveretto c'aveva ragione, dice le dobbiamo fare dovunque, ma non può essere neanche una scusa per non farle. Bambini usati come scudo umano. Facciamo pochi chilometri, andiamocene alla Maddalena. Faccio una piccola premessa personale, non amo fare le premesse personali. Detesto la generalizzazione, cioè dire che tutti siano uguali, i politici tutti uguali. Assolutamente non è vero, ognuno ha le proprie idee, i propri valori, i propri impegni. Nel caso della Maddalena però mi devo contraddire perché il Consiglio Comunale della Maddalena unanime si è pronunciato contro le demolizioni di costruzioni abusive. Ma non solo il Consiglio Comunale unanime, anche i due parroci contro le demolizioni. Non solo i due parroci, anche il loro vescovo, non facciamo nomi, si chiama Monsignor Sanguinetti, ha parlato di eccesso di giustizia. Lui che di eccesso di giustizia se ne intende ha detto che le demolizioni sono eccesso di giustizia. Chiaramente ha anche delle ragioni, perché il diritto alla casa è indiscutibile. Però quando poi il Procuratore della Repubblica di Genova, e sappiamo quello che è successo a Genova, si lamenta che la Procura di Massa, il Tribunale di Massa, che dipende da Genova, non gli ha fatto avere neanche il numero delle demolizioni da effettuare, c'è qualcosa di distorto e a Genova per l'abusivismo edilizio si è morto e si muore anche. Però perché mi interessava citare il tema, il caso della Maddalena? Per un motivo molto preciso, perché se il Consiglio Comunale è unanime, i due parroci sono unanime, il vescovo la pensa allo stesso modo, siamo di fronte a una questione fondamentale, su cui forse è opportuno che tutti quanti noi ragioniamo, il consenso di cui gode l'abusivismo. Diciamolo in altre parole, l'abusivo vota, come l'evasore vota. Quando il vostro Presidente Paolo Righi ha ricordato che c'è un disegno di legge che è stato approvato all'unanimità al Senato ed è fermo alla Camera, appariva abbastanza sconcertato. Diceva, come mai quel disegno di legge si è fermato? Evidentemente qualcuno sta rappresentando qualche interesse, disegno diverso. Io ovviamente non mi voglio pronunciare su quel disegno di legge, sui contenuti, sulle tecniche, non sta a me, non è mestiere mio. Però facciamo attenzione a questo tema, a che cosa significa il consenso di cui gode l'abusivismo. Perché altrimenti non ci sarebbero neanche quei numeri, non ci sarebbe neanche una mancata battaglia contro l'abusivismo, che riguarda certamente innanzitutto l'evasione fiscale, ma non solo perché abbiamo visto che ci può essere un problema di sicurezza personale, la sicurezza del territorio, in alcuni casi la sicurezza alimentare, pensiamo ai panifici abusivi o ai distributori di benzina abusivi. Io ho trovato veramente di tutti. Le prime pagine del libro sono il racconto del mio sconcerto dell'aver trovato davvero di tutto. Distributori di benzina abusivi, voli aerei abusivi, c'è un'inchiesta della magistratura ad Ancona. Avete presente gli striscioni aerei? Anche quelli l'antitrust ha sanzionato due aziende che erano abusive. Centri benessere, veterinari, medici, dentisti. Dentisti vi voglio raccontare un caso che è di Borgo Manero. Allora, a Borgo Manero abbiamo dentista padre abusivo e dentista figlio abusivo nello stesso studio dentistico, ovviamente abusivo, inutile dire. Il che vuol dire che ci tramandiamo l'abusivismo anche di padre e figlio. Siamo un paese di sane tradizioni. Ma abbiamo, a proposito di agenti immobiliari, abbiamo anche molto il senso della famiglia marzo scorso, marito e moglie, marito agente immobiliare abusivo, moglie agente immobiliare abusivo, sono finiti sotto processo a Cunio, credo che qualcuno di voi lo sappia. A proposito degli agenti immobiliari, continuiamo a vedere un caso dietro l'altro senza interruzione e tocca davvero tutta l'Italia. A maggio un caso a Napoli, a giugno un altro caso a Napoli, se volete vi do i dettagli. Il primo è un'operazione del commissariato San Carlo Arena, il secondo di Vicaria, credo, mercato. L'agenzia era in via dei cimbri, ma ci sono nel libro ne cito casi a Bolzano, casi a Trento. Il totale stimabile dell'evasione fiscale, dell'imponibile che sfugge alla tassazione nel caso degli agenti immobiliari abusivi è di 450 milioni di euro, che è la vostra stima che credo possa essere ritenuta attendibile. È una stima molto importante e ci dice tante cose, perché quando oggi, ripetutamente dalle slide, abbiamo visto e sentito i lamenti sull'eccesso di pressione fiscale, non c'è dubbio che tutti quanti avremmo l'ambizione di pagare meno tasse. Però, se quelli che non le pagano, le pagano, forse c'è qualche possibilità in più. Io mi sono trovato in una trasmissione radiofonica a fare night. Roberto, no, no, scusami, non lo so, perché poi anche qui staremo a sentire che ci sono un sacco di episodi, intanto ti siedi e poi magari ce ne racconti qualcun altro. Chiudi con questa... Allora, Roberto Ippolito si accomoda con noi.